Al via la collaborazione tra il Dams dell'Università della Calabria e il Teatro Rendano. Gli studenti potranno incontrare gli attori della stagione di prosa. L'amministrazione comunale continua ad allargare quelli che sono i suoi interessi nelle sue collaborazioni del Teatro Rendano con l'esterno. E proprio oggi, con questa conferenza molto partecipata, abbiamo voluto siglare quello che l'accordo fa il Teatro Rendano e il Dams. Il ciclo di incontri dal titolo Fuori Scena si pone l'obiettivo di consentire agli studenti del Dams di conoscere da vicino il mestiere dell'attore. Il primo appuntamento è stato con i protagonisti dello spettacolo Colazione da Tiffany. Vuole dare l'opportunità al teatro e agli studenti del Dams di incontrare gli attori, i protagonisti delle pièce che vengono rappresentate al Rendano e ascoltare da loro le proprie esperienze, il racconto dell'attore e il percorso che un attore, in questo caso tra cinema e teatro, fa per arrivare poi a proporre e restituire al pubblico quello che poi appunto vediamo attraverso l'opera finita. Già da tempo anche gli studenti delle scuole cosentine hanno avuto accesso al teatro con un'altra iniziativa che fa loro scoprire il Dietro le Quinte. Questo ciclo di incontri che abbiamo intitolato Ogni luogo contiene segreti mette l'accento più che sullo spettacolo teatrale, su tutto ciò che fa vivere uno spettacolo teatrale, cioè il Dietro le Quinte. in realtà i mestieri, tutte le maestranze che ruotano attorno al teatro.